Quando trovi un'arma o un strumento legato o un'altra prescrizione è meglio con Trisca, perché tu riesci a prendere per te. Non vale la pena. Ok, nella stessa acquisizione... Che sta da questa parte... Ok, oggi si controlla le persone. Va bene. Perché questi sono qui? Prossimo! Parla con Justin Washington. Allora... Informazioni base, Sven, White, 492668, blocco A, ok. Le impronte vanno bene. Tutto va bene. Ok. Tu sei dentro, figo mio? Dove sei? Ho già fatto. Ok Ho già fatto, mi sa Eh già, ho fatto, mi sa Prendi L'ho bloccato Mi sa che è tutto bloccato, ragazzi Ho sbagliato la cavolata Ma io ho messo in gara, ragazzi di te E' zitto, aggressivo, attaccio lì, aggressivo Ok E' un po' di giro, come ne e' un po' di giro E' un po' di giro Io ho già accettato Prende in tenuto Prende in tenuto Prende in tenuto Da scallo Lui come si chiama? Spend white Ma io ho messo in gara Cassa in titana Oh, ragazzi, no Perchè devo regalare? E' un po' di giro Vedo cosa sia il caso Welcome to prison C'è un po' di giro C'è un po' di giro Allora, salve Prende in documento, ok Allora Pet Svensson 63 68 82 01 Le impronte valgono Va bene Qui si può fare Accettato Ok Prendiamo qui C'è qualcosa, no? Poi c'è qualcosa No E' lì Ok Perchè siamo in tenuto Ecco Questo è per te E' un po' di cose che io avevo già preso prima da altri detenuti Non che fosse Diciamo Appunto La cosa dà io a loro E' il prossimo Salve Lei è Anton Martin Che è oggi un attore Allora Anthony Anthony Martin 24 74 37 Impronte Tutto a posto Eeeh Va bene Accettiamo Perchè siamo gli oggetti Ok Apri C'è qualcosa Stephen King Stephen King e Stephanie Queen Ok 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 Secondo Questo è per l'attenzione Apri Ok C'è pillole Qui Non c'è sta niente Qui siamo Sai cosa di picchio Prendi questo E qua Può andare Parla con Justin Washington Penso se è quello del Eeeh Ok Sala ricreativa Ciao Washington No Clares No Grazie Non puoi parlare Contro Sei antipatico Allora Sala ricreativa Pesso da queste parti Questa Poi è la zona Del Sala briefing Sono visite Le zone Di ufficiali Spoglia Toglio Penso di no Non c'è nessuno Sarà ricreativa Allora Matt Miller Justin No Joe Davis Michael Baker Justin Washington Su Io devo cacciare Nel canale video gioco Si chiama Video game tycoon Allora Qua non c'è niente Da fare Allora Tu chi sei? Scott Powell Ok Justin Washington Sei tu? No Sam Gonzalez Spiazze Tu sei? Qualche come ho fallito E non è colpa mia Scusami Allora Tempo libero Mendomento un po' E che si è visto Si è vita A fare sparare A fare pesi Va Ok Push location Blocco B Va bene Non so lavorare Ma ammazza Che schifo Ammazza Dove Dove Questa Dammi questo Qual è? Moccio? Ma qualunque cammina così Non lo so Capisci Capisci qui E dove puoi dire con La sfugnetta Scusami Prendi Ah puoi anche vedere Che sono Bavoso Non so di cos'è Bah Officina Blocco Celle Oh se esco a prendere Le cose qui Mi impazzisco Oh è il libro Ah ma qui l'officina Amici Uh se non posso Prendere Ok Prendiamo qui E si pulisce Dai Così Spazzolone Com'è Appetere La pulisce I love the apple Eh Che fatti tu Ti piace l'apple Allora Beh poi Puglio qua sotto Il lavoro Va Va Che schifo Che vuole 14 metri 7 Dai Così Puliamo tutto Va bene E pulisce Ok Ora Al blocco B Io te lo posso Non lo tocca O ci metto Al blocco B Dai che c'è la stanza Dai che ce l'hai Ok Si pulisce Mazzate Che schifo Ma tu Ma come cavolo Stai Ti pulisco La faccia A te Adesso I coppi In faccia Non hai idea Oh Linguaggio Ti controllo Prendi Ok Di questo Pilla Qui dentro Si impara Abbast Puglialmente Non so Gli pulisco La location Sua Che non si Meta Eh Si Di semplicità Dosta Tra vergognare La macata La macata Sembra Tutti Stich Così No No Che cosa Perché lasci le cose Amico mio Pilla Pilla Dai Dai su Ma perché Pulisci Apri qui Pulisci qua Tutto sangue Sei vomitato E' schifo Uuuuuh 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 Fischietta Abbiamo conto Per la sicurezza Pilla il mocio Lui di tutto Chiuri 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 di tutto La bido ma cattì La bido ma cattì E si capatata Bah Tutto Tutto Devo fare Tutto io Ecco Che schifo Ok Dammi qua Che cosa Devo fare Ma perché Fai cose Illuminate Ma sei un Pirla Lo posso Picchiare Vi prego Lo posso Picchiare Dai Su Vedete qua I'm Serta Con Ma Mettete Qua in testi Mettete Contro Per sicurezza Si impare Vi scordi Tei tolgo Ah Ceci dei dollari Ok E' attento tempo Libre Non vorrei fare Che a fine Ma La fammina Penso che mi manca La stessa Sopra giù E la pistola Li faccio solo record Giochetti I soldi Ce li ho Quanta dollari Amico mio Da posto Bah Così Mi metto Poi A domine Si E mi rialzo Ok Vai a cortina Eh Cosa Ok Dove A dare Io mi pego Per sicurezza Il manganello Fate breve Mi raccomando Solo i biglietturi picco Eh Si stanno in giro Quell'escursione Ok I biglietturi a voi Mi sembrava Ok E ora Siamo qua Allora Andiamo a mantenere l'ordine Allora Tutti dentro Subito Inordinato Guardate Potremmo ascoltare Per il gioco Per l'internet Che è Appunto Fra stream aperto Il gioco E obbligare Se streaming Forse che tutto va male Allora Epp Ho il computer Penso che il computer Mi raccomando Mi raccomando Ma quello è Speruto Giù E' stato zitto Andiamo a fare Poi Vi riesca Vi riesca Ma che Sono alzati So accammato Ok Spero che Vado a controllare E' lì Mi sembra Che si facciassero Qualcosa Nel Metto qui E' controllo Adesso mi c'è immondizia Ma qui è l'angolo Perfetto Oh Guarda Guarda Vai giù Che non fallo Neppure Ho fatto io ragazzi Mi preoccupate Ho fatto io Ho fatto io Oh Giù Che non fallo più ma c'è delle punizioni ecco il Sish allora non so come poter punire manteniamo l'ordine ok ok non so che migliora anche lì la percentuale meglio per noi assolutamente però sta facendo un mi piace posso picchiare qualcuno? no vero ma si alleno? adesso sono allenato sono con le pistole pronte a sparare 1.50 ma sempre 1.60 circa peccato penso che lo sia già fido ecco di volta che 2.3 rivolte per finire di tutto perché secondo lui che non mi piace ok ok se lo dare vado un po' a allenare e vado a giocare con quelli lì ma sempre è ed 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 si voi dai uomo dai uomo siamo a metà fino anche a metà del tempo dai così ce la rendiamo per bene picchiamo la gente undici dodici c'è il tempo c'è il tempo c'è il tempo tredici quattordi che cosa ci facciamo 60 dollari puliti pure prima ho fatto quanto abbiamo 80 dollari che bello ora vai il blocco cell per difficile per difficile ok questa rimane sempre la stessa però dobbiamo però fare di un altro migliore qualcosa non è stata la briefing ma è stata la creativa no si guardate un dolore fa un po' ma l'orecchio scusatemi non è stato il dolore strano comunque allora negoziatore potete ricevere un'altra gente maggiore ok come c'è con uno fino a due detenuti con quanto rispetto a te e questo è come c'è occhio di far in grado di confrontare vari dati sospetti altri dettagli sessuali costano male però qui difesa più uno furtività riduce protection by 5% direi più questo occhio di far ecco ho la fiducia acquistano questo va ok grazie guardiamo per prescrivere le celle andate così dai corri 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 confus sono domani apri tutto salve la stamina è sempre 100 è accato se ti vuoi aumentare la stamina vale c'è alcune di esse voglio dire se prezionare a due volte a volte trovo il lavoro illegale confisca così ci mettono in confinzione della cell la perquisizione sai che ricordi gli occhi sono preparati per vedere qualcosa per entrerci e friscarlo ok occhio quindi possono essere non visti perché sono questi come per girarlo anche così ottimo non c'è niente cioccolato al latte beh lasciamo qui dai è a posto questo allora te lasciamo scusami questo non c'è niente tu mi starà tu fra distire t'ha pazzo ok tutto fatto ah finché non prendo dimmi che devo per forzo via no che ho già fatto usaleva per aprire le celle ah che devo aprire la scena ecco l'ipedio di cioccolato l'ho preso ma questo l'ho già fatto allora posso continuare ancora per qui sia giusto a angelo 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 ah è lui deve essere verso qua che è 8 15 16 che fai o vado a posto anno angeli eccolo qui allora si è proprio così anche le altre però ok manda essiccato vabbè lasciamoci qui alla fine manda essiccato ah per favore riesce proprio a schifo il lavoro e te qui le cose nel gabinetto si picchiano quando mi guardano che qua ha fatto perché è lui che picchia poi quattro ci vieni 16 sven sven sei tu mi dico domanda ok che c'è sta qui non c'è sta niente questo mi è un po dubbio avevano il muro lì perché mi conosco sempre perquisisco sono un bravo ragazzo dai c'ho anche la fiducia lo tu per cento non lo so ok allora controllo anche il ferro sotto piglia qua c'è una cosa qui no ok allora richard non mi rompe la scatola fammi controllo qui va sotto non c'è niente mira su dimmi tu che c'è evitiamo questo schifo no richard b fatto io andiamo da andrew si ammazzano E' lui, lui vuoi picchiare Eh, vatti da un affango Ok, perché siamo qua Il primo materasso Mmm, non c'è niente Tu contro il materasso e poi anche I camionetti conseguenti Uh, uh, uh 36 Non mi guardano Lui mi guarda Però ho tanto un bacione Sigarete rubate, presa Hmm Tu non è strumento, giusto, bravo Guarda, vai nella nostra briefing E parla con la guardia Ok Bella così la vita Adesso l'ha detto di stare qua Adesso sono stanco Quindi Mentre c'è uno che lavora Così A loro statale Non è spinto a uno tanto vocemente Perché capisci prima Inizia la giornata come faccio io No Stai lì lo stesso Non fai niente Fongati 12 dollari Per lo 4 Stai aumentando Per le guardie 5 Tutti più uno Ok Allora ragazzi Questo è preso simulator Che secondo me Potremmo portare altre volte Sul canale Qui su Twitch Per un po' Passarci la giornata Che è un gioco così Di riazzamento Dovete che è molto Fatto bene In certi In molte asperie C'è ci sono problemi Come la traduzione Messo lì Troppo è fatta un po' Una di due parole Cos'è prescrita male Oppure vedeva l'icona Nel pugito Quello che voleva fare La rissa Che è poi Di sotto che Non è l'infari La rissa Ma per Mantenere l'ordine Diciamo Quindi forse Nel ruolo Forse la persona Lì È appunto Cattiva Qui sull'unico È un gioco Che porteremo Che porteremo Anche sul canale YouTube Sul formale Dei scorsi Minitere Inse da tanti altri Se dovete vedere Non solo quello Ma anche Pari serie Che porto sul canale YouTube Come vari strati Di live Non peggio Tutti I link Della pagina YouTube Ma anche Di social Che possono interessare Che se ne Più sul mio lavoro Lì trodano Anche Diciamo I vantaggi Di seri abbonati La mia strumentazione I giochi Che mi ha affiliati Tutte le informazioni Su me Quindi Se non peggio Di Twitch Trove tutto Chiudiamo qui la live Io ringrazio Per l'attenzione E noi ci diamo Alla prossima live Dal vostro Minitere Ma si chiude Per l'attenzione